Non è stato senza quell'uomo che il carnetto passava e l'uomo che urlava Geratti! Ah che ci va? Arrivati anche Pasquale Ah e Krippakonset Belli colori Ah questo è quello grande, quello che c'era dal castello Sforzesco con la cabina armatoiale come intendevo io cioè, sembra di essere a bordo di una bella barca con due bagni fantastico di una bella barca di una bella barca di una bella barca e che farà di una bella barca e che decida